Il Governo nazionale deve accendere riflettori sul caso Gela perché oggi la città, a seguito della grave crisi occupazionale, è in ginocchio. Le attività continuano a chiudere e la preoccupazione è altissima e la gente inizia a diffidare dello Stato, delle istituzioni e soprattutto della politica. Bisogna dare risposte concrete per la crescita del territorio gelese. Lo dice Francesco Agati, segretario cittadino del Partito Politico Conservatori e Riformisti di Fitto che ha investito del problema le alte cariche dello Stato. Il Governo nazionale di Giacati deve intervenire sulle bonifiche delle aree di Smesseni, zona franca, industriale e intermodale, realizzazione dell'interporto, partenza dei cantieri autostradali dalla città, realizzazione e potenziamento della ferrovia elettrica ed ancora realizzazione del porto per diportisti e pescatori, eliminazione in tutto il territorio dei vincoli SIC e ZPS e gestione a società private del pontile della regione, oggi utilizzato in maniera monopolistica da Eni. La posizione di Gela al centro del Mediterraneo permette l'assorbimento dei flussi commerciali internazionali. A 25 miglia a sud della città del Golfo transita il 25% del commercio navale mondiale tramite le navi container che navigano da Oriente a Occidente, dal canale di Suez allo stretto di Cibilterra e viceversa. Sicuramente vantaggioso, dice ancora Giacati, sarebbe realizzare queste opere e investire nella città del Golfo per imprenditori nazionali e stranieri. Potrebbero verificarsi ricadute economiche, sociali, ambientali, sanitarie ed occupazionali per l'intera Sicilia. Ci vuole un costruttivo e sano confronto? Bisogna ai chiudegati, mettere la parola fine all'emergenza Gela.